Musica 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 in separazione dei coppi. E' bella che in questo affare non ci capisci. Ma c'è troppo gente che soffre. E io voglio aiutare a rompere. Stacassi senza strapparsi. E tu crei che l'hanno pagato per questo? Ma qual è che ti parli di soli? Faccio ben onda io. Ben onda. Dopo io mi recupererei di tutti i numeri di donne tralasciate e tando a botte. Allora Dante, allora dici ora un specialista o come gio gio... E io! Jojo ribaradù, Tanki gori, Chapa di wabà! Eh oui! Comment? Non Clos, j'vi nase. Pas ce soir. Bon alors Claude, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je suis au regret de te dire que je ne suis pas du tout excitée. Ah! E la bonne nouvelle c'est quoi alors? C'était ça la bonne nouvelle. Ah! non est pas du tout... Tu as bah... Qu'est ce qu'aussi du jour? Il jour mondiale du silencieux. Va be. Luisa! Cosa c'è? Luisa, veni in furia, spicciati! Che si passa? Adesso un rimorre bizzarro, in camera! E perché si vede? Perché non siamo sicuri! Senti! Non sento un'onda! Tsss! Zitta! Oh, è ridicolo! E' meglio andare a vedere! Iè! Allora? Non c'è un'onda! Allora mi puoi passa i cookies? Allora? 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 Come fermo? Senza i vecchi è un cento! Ah! Allora? 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 Calvo? Toqu'ne la tua bucklita con me Allora? Il gioco ha la testa di Lullo come ne è un partito, come resta zero? Ungere il gioco? Sì, vediamo. Ma prima volta, guadagniamo tempo. Il principio prima è quello che non mi piaceva con te. Ma voi avete spera d'appare? Ah, chi compa sperando? Moreragando? Amen! Sì, vediamo. Sì, vediamo. È molto tempo che non è venuto in vacanza. È vero, ci farà bene di scegliere un po' di da l'imposte, se dora la pilule al soleil. Ok, tu vorrei andare dove? Beh, c'è troppo di sogni di sogni che non ho ne sape. È un sito che ecco, tu tapis le mot cli, e ti trovano la destinazione ideale nel mondo. Ah, allora... Il soleil. La plage? Allora, sì e non. Perché come io fréquente i ragazzi del foot, io ho fatto un po' di grassi torse nu su la plage. Non, non, io vorrei un luogo calma. Un petit village dove non parlerebbe francese, per essere bene depayse. E allora che sia un luogo, ma non troppo. Caragouto? E allora che sei il più ilvole del nord e ora quindi del mondo è il più bello del mondo. Non, ti credi, ti credi? E io è, io, io mi interessa, mi interessa, ma volerebbe davvero bene appena i più. È sicuro. Che modelli avete? Anche quella avete. Con quale parlate? Con un venditore. Chi vendi cosa? Non lo so mica. Allora perché non lo capiate mica? Perché ha giù tempo. Così non faceva cagare a nessuno, vedi? Posso tenere torna a mezz'ora. Ah! Scusate, no, parlavo con un uomo serva. Intanto sbucciare le calotte, e a un affare non ce la vage mica. Non è mica sbucciare poco. Sbucciare le calotte E Sofie, c'è la tua camigetta nuova? Iè, ma non è mica qui che guardo. Guardo ciò che vage d'è sincinta. Sincinta? Ah, wow! Provo d'immaginare chi è feta vage. E pensi che se tu ti carezza pansa hai da sapere ciò che la vage? Non si sa mai. E se tu ti carezza ugore hai da sapere ciò che la vage d'è sè amata? Eh, eh. Ah! Uomo